La nostra forza come comunità appoggia non tanto sulle nostre conoscenze e abilità personale, quanto sulla compassione che mostriamo gli uni verso gli altri, sulla cura che pratichiamo specialmente per quanti non possono avere cura di se stessi. Con queste parole Papa Francesco ha colto in Vaticano i partecipanti all'incontro promosso dall'Harvard World Modern United Nations. Il pontefice ha espresso gioia nel vedere rappresentate tante nazioni e culture, segno della ricca diversità della nostra famiglia umana, evidenziando che come studenti universitari sono chiamati a perseguire la ricerca della verità e della comprensione per il bene delle comunità locali e dell'intera società. Gli argomenti e le problematiche che avete trattato o proseguito non sono senza volto. Dietro ogni difficoltà infatti ci sono uomini e donne, giovani e vecchi, ci sono famiglie e individui che vivono ogni giorno lottando. Questi sono coloro che hanno bisogno del vostro aiuto, ha concluso Papa Bergoglio, che vi chiedono a gran voce di ascoltarli e che sono più che mai degni di ogni vostro sforzo per la giustizia, la pace e la solidarietà. Spero anche che la vostra esperienza vi abbia condotti a vedere l'impegno della Chiesa Cattolica nel servire i bisogni dei poveri e dei rifugiati, a sostenere le famiglie e le comunità e a proteggere l'inalienabile dignità e i diritti di ogni membro della famiglia umana. Noi cristiani crediamo che Gesù ci chiama a servire i nostri fratelli e sorelle, a prenderci cura degli altri, a prescindere dalla loro provenienza e dalle circostanze. Tuttavia, questo non è solo un distintivo dei cristiani, ma è una chiamata universale, radicata nella nostra comune umanità, una cosa che abbiamo come persone, abbiamo dentro come persone umane. Grazie. Grazie. Grazie.